Musica Rotti con gli o che poi vedrete In tutte e due le parti Uno giovedì E l'altro sabato Però ho trovato Terminal Qui ne ho detto cazzo Perché non provare a farlo Adesso vedremo che cosa uscirà Insomma Penso che proverò ad usare il Barret Comunque ci vediamo in partita Ed eccoci in partita ragazzi Come detto prendo il Barret Magari poi cambio con l'intervention O che sia O rimango così Non lo so Connessione di merda C'è c'ho tre tacche Decente Ce n'è uno subito qua Che però Ha tipo laggato Ok Male Inizia male la partita Vediamo un po' Se ci riusciamo a riprendere Il primo sta già a tre kill Questo con Vabbè Sto tipo laggando Come un animale Almeno così Sembra a me Se nel senso vedo le cose Dopo Il che potrebbe recarmi Abbastanza un rompimento Di coglioni Speriamo si riprenda O comunque speriamo che loro facciano più cagare di me Tant'è vero che io sto vincendo Allora io rimango in questa posizione Perché È una buona posizione Se le persone iniziassero a morire Vedrete che qui Inizieranno a spawnare Gente Come questo tipo qua Che però Mi è riuscito ad ammazzare Non ho capito come Ok Mori pezzo di merda Ce n'è un altro qua È tornato Dentro Mi ostinerò a rimanere In questa posizione Perché Secondo me Ripeto Nonostante io non veda Eccolo Ok Nonostante io non veda nessuno Però sono certo Ok Ok Stanno iniziando forse a spawnare A favore Perfetto Tiriamo il predator Come vi diste nell'altra partita Se riusciamo a fare Arrier Cazzo Questo è un predator di classe Che ho tirato Ok Arrier è fatto Vediamo un po' Per il peblo Ok Peblo Mio Vediamolo subito Tu muori Ce n'è uno Che stava andando via Da qua Questo non lo riesco Ad ammazzare Ah è una pippa Assurda Ok ci sta andando Abbastanza bene Penso che Però adesso Abbiamo incattivito La gente Che verrà A cercarci Oh mio dio Ah eccolo là Vabbè Comunque la partita Si è un attimo ripresa Dopo la minchiata Che ho fatto all'inizio E come vi ho detto Anche nello scorso video Un free for all È molto 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 Agevolato Dalle ricompense 5 7 9 Perché sono Relativamente Facili da prendere E una volta Presse Praticamente Vi fanno loro La metà Della partita Come state vedendo Quindi il tutto Sta nel riuscire A prenderle Vi ripeto Non è così difficile C'è questo che però Mi sta rompendo Abbastanza i coglioni Eh vabbè Nel senso Vorrei comunque Provare a fare Qualche kill Perché ormai Non me le stanno lasciando Neanche più Qui c'è un tipo Che sta per esplodere No Mi ammazza solo Questo tumore Ma che palle E vai a fare In culo Quello l'avevo preso Però Io da lontano Ragazzi Faccio cacare Perciò Sono stato costretto A lasciarlo Lì vivere Oh strano Che non era lui Eh Eh vabbè E allora È una congiura Ti verrò a prendere Eh papà Come stai Tutto bene Allora vediamo Se riusciamo A riarrivare Nel posto In cui eravamo Prima Anche se la partita È quasi finita Ne uscirà uno Da qui dentro Quindi mai avvicinarsi La Non è uscito Nessuno Ho fatto pure Una figura di merda A dirlo Hit marker E non muore È morto No Ah no Era entering Chiaramente Non è che mi posso aspettare Che entering Possa morire Né tantomeno Brownie a questo punto Ok Abbiamo ammazzato Anche il tumore Di entering E comunque La partita È finita Ragazzi Io spero Che vi sia piaciuta Penso che Adesso proverò A portarvi un altro Call of Duty Perché faccio solamente Mv2 Questa serie Che è quello Che mi piace di più Scusatemi Però nel senso Gli altri mi fanno Abbastanza cagare In ogni caso ragazzi Ci proverò Lo farò per voi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale O commentate Oppure fate tutte e tre le cose Nel senso Come cazzo vi pare Un bacione Da Marza Ciao